La pulizia di Fosso Grande per evitare allagamenti, per evitare quanto accaduto nei mesi e negli anni scorsi a Pescara, ma non solo nel capologo adriatico. Questa è la proposta del Partito Democratico. Consigliere Blasioli, una proposta che poggia su dati oggettivi in passato. Ci sono stati enormi danni per gli allagamenti in città. La nostra richiesta è oggi una richiesta rivolta alla regione Abruzzo, che non ha competenze sul Fosso Grande, ma in passato comunque ci ha intervenuto. Perché capiamo che i comuni di Pescara e Spoltore sono in difficoltà economiche per affrontare una spesa che si stima solo per la pulizia di 300.000 euro di questo fosso. Questo è un fosso che corre sul confine tra Pescara e Spoltore, poi prende anche una parte di Montesilvano a Monte, e che arriva naturalmente al fiume, provocando spesso e volentieri, con fenomeni atmosferici pesanti, gli allagamenti di tutte le case che sono a ridosso di via del circuito. Via del circuito parliamo di Pescara, naturalmente, e di Spoltore. Questi sono i danni ingenti del 10 luglio del 2019, in occasione di quella grandinata. Occorrono 300.000 euro. La regione Abruzzo già lo ha fatto. Lo ha fatto all'indomani degli allagamenti del 2013, con un progetto del 2015, operando nel 2017 per la ricostruzione delle sponde sul ponte di Via Francia e per la pulizia di tutto quanto il fosso, in modo da favorire il deflusso delle acque. E questo è un fattore molto importante, perché tutti gli ingombranti, tutti i rifiuti, vengono portati a valle e poi all'altezza del vivaio comunale, dove c'è un sottopassaggio di questo fosso, prima di arrivare al fiume, si blocca tutto e quindi il fosso grande esonda, creando dei problemi. E poi c'è una regia che la regione Abruzzo deve fare con i comuni di Pescara e di Spoltore, per sistemare definitivamente il momento di affaccio di questo fosso al fiume Pescara, perché è del tutto evidente che nei momenti peggiori, quando si alza l'acqua del fiume Pescara, il fosso non riesce più a scaricare all'interno del fiume. Chiediamo di operare per tempo, perché già il fosso è ridotto in pessime condizioni ora. Stanziare i soldi, progettare la pulizia occorre naturalmente mesi di tempo e quindi chiediamo di attivarsi il più velocemente possibile.